Allora domenica come sta andando la stagione? Bene. Bene? Sì. I clienti sono contenti? Sembrano tutti molto contenti, non si lamentano di niente anzi. E da domani la notte rosa si aspetta un weekend di fuoco? Speriamo di sì, un aperitivo magari di fuoco anche qui in albergo. Ok allora buona notte rosa. Grazie, fruttante.